Salve a tutti, sono il notaio Francesco Poddige, notaio in Fiorenzola d'Arda, provincia di Piacenza. La mia è una sede piccola, periferica, però alla quale sono molto attaccato. È la sede che mi è stata assegnata al momento della nomina e è stata una grande sorpresa il rapporto che sono riuscito a creare con i miei clienti in così poco tempo. Quando sono stato nominato notaio ho dovuto, come tutti, scegliere il software per lo studio e fin da subito la mia scelta è caduta su notaio Next. Durante la prima presentazione è stato una sorta di colpo di fulmine. Ho visto le potenzialità del programma e nonostante venissi da oltre 15 anni di lavoro in altri studi notarili e quindi avessi già un'esperienza di software gestionali dello studio quello che ho visto durante quella presentazione mi ha colpito così tanto che posso dire che ho avuto un colpo di fulmine. Sono stato, credo, uno dei primi che ha aderito con convinzione e con trasporto al progetto di notaio Next e praticamente ho cominciato a utilizzare il programma prima ancora di ottenere il sigillo. L'ho visto crescere, penso di aver dato in qualche modo un contributo con qualche suggerimento alla sua evoluzione e però devo dire che ogni giorno mi sorprende perché scopro qualcosa di nuovo e devo dire che ha raggiunto dei livelli di performance che sono molto elevati e che non mi sarei mai aspettato due anni e mezzo fa quando ho visto la presentazione. Adesso credo che sia un software molto affidabile e che sia in grado di dettare gli standard nel settore per i prossimi, credo, dieci anni perché non credo che esista niente in commercio con le caratteristiche di notaio Next, caratteristiche incredibili per quanto riguarda la facilità della personalizzazione del programma. I miei impiegati nel giro di poco tempo hanno familiarizzato con grande facilità con il programma anche perché il programma ha un design, un'interfaccia che oggettivamente è molto facile, molto intuitiva da utilizzare. È un programma nel quale io ho creduto fin dall'inizio molto e per il primo anno e mezzo di attività io ero da solo in studio e ho avuto la possibilità di utilizzarlo in tutte le sue funzioni, tutte le funzioni dello studio dal repertorio a stesura degli atti e devo dire che è un aiuto incredibile nello studio perché permette di ottimizzare i tempi di istruttori della pratica, permette di personalizzare come dicevo prima con grande facilità la gestione delle pratiche, la creazione dei fascicoli, quindi è molto flessibile nella sua impostazione, nel suo flusso di lavoro può adeguarsi alle esigenze credo di un qualunque studio notarile, da uno studio piccolo come il mio, uno studio di provincia agli studi di città con tanti collaboratori, degli studi associati, degli studi che gestiscono una mole di lavoro molto consistente avrei piacere a condividere con voi un aneddoto che mi è capitato il 28 dicembre 2020 me lo ricordo come se fosse oggi perché è il giorno in cui a metà mattina mi arriva la telefonata da mia moglie che mi dice che era risultata positiva al covid. Chiaramente io come contatto diretto ho dovuto subito chiudere lo studio e rinviare tutti gli appuntamenti e dovevo poi entrare in quarantena. Il problema è che essendo il mese di dicembre come sapete un mese dove si stipula tanto avevo un po' di adempimenti da dover fare prima di uscire dallo studio e entrare in quarantena e praticamente sono riuscito nel giro di tre ore a registrare otto atti sia immobiliari che societari un tempo che io credo possa fare invidia nella nostra collaboratrice più esperta. Io che comunque al tempo ero un notaio giovane ai primi atti sono riuscito a eseguire così tanti adempimenti in così poco tempo grazie alla intuitività e alla precisione del software nel rilevare i dati dall'atto nel preimpostare gli adempimenti e quindi devo dire che in quel momento di grande difficoltà perché comunque la chiusura improvvisa dello studio se non avesse avuto Notaio Next in quell'occasione credo che mi sarei trovato in enorme difficoltà e quindi devo dire grazie a Notaio Next per avermi aiutato a gestire con tranquillità, con affidabilità questa situazione che era molto complicata. Come sapete Notaio Next è dotato di molti moduli aggiuntivi specializzati in particolari settori della nostra attività. Abbiamo il modulo delle successioni che è totalmente integrato con Notaio Next per cui posso tranquillamente far dialogare la pratica relativa a un atto tra vivi con la pratica relativa ad una successione, trasportare l'anagrafica, trasportare gli immobili e questo permette in molti casi un notevole risparmio di tempo oltre al fatto che i dati che sono stati inseriti una volta non devono essere inseriti una seconda volta e quindi si evitano i rischi derivanti dalla compilazione. Un altro modulo che utilizzo è il modulo degli e-services. Tramite gli e-services il programma Notaio Next acquisisce automaticamente tutte le comunicazioni che i nostri clienti che ci contattano in via telematica tramite il sito internet possono fornirsi. Quindi possiamo scambiare dei documenti, possono mandarmi delle richieste di preventivo e sotto questo profilo la cosa che mi ha colpito di più è che la richiesta formulata dal cliente tramite il sito internet utilizzando gli services si trasforma automaticamente in una bozza di preventivo. Naturalmente poi ognuno di noi deve fare le sue personalizzazioni e le sue impostazioni però praticamente ci si trova una parte del lavoro già fatta e questo è un notevole risparmio di tempo e impedisce o comunque aiuta a prevenire il compimento di errori quando si è un po' di fretta oppure si è in periodi un po' più concitati. Un ultimo modulo del quale faccio o utilizzo è il modulo notario MyWeb è un modulo che per quanto io mi trovi in una sede diciamo di provincia non in una grande città dove magari la clientela è più abituata a consultare internet per rivolgersi ai professionisti devo dire che il modulo notario MyWeb mi sta dando delle belle soddisfazioni in termini di visibilità e quindi devo dire che sono tutti moduli che io consiglierei caldamente a voi colleghi perché danno risultati concreti. L'assistenza fornita su Notaio Next è un'assistenza molto precisa puntuale efficace e devo dire per la mia esperienza personale anche esprime grande disponibilità da parte degli operatori perché quando ho cominciato io ero un nuovo notario di fresca nomina come tutti insomma più preparato sulle cose teoriche rispetto alle questioni pratiche che però sappiamo essere il nostro pane quotidiano e con grande pazienza devo dire il personale del centro di assistenza di Verona mi ha seguito passo passo all'inizio dell'impostazione generale di Notaio Next quindi le grandi personalizzazioni. Questo devo dire che negli ultimi mesi sempre più spesso scopro con sorpresa dei miglioramenti che sono stati apportati al programma che non soltanto vengono incontro a delle esigenze che io ho sentito in questi mesi ma addirittura hanno anticipato delle esigenze che ancora io non sapevo che avrei potuto avere addirittura in un paio di casi sono rimasto sbalordito perché nel vedere che cosa poteva fare il programma mi sono detto non avrei mai e poi mai immaginato che il programma potesse arrivare a tanto quindi devo dire che c'è una grande attenzione da parte del team di Notaio Next alle esigenze dei notai ed è un'attenzione come dire consapevole e mirata perché innanzitutto è impostata sulla base del dialogo c'è grande apertura da parte del team nel ricevere consigli, suggerimenti, osservazioni da parte di chi lo usa tutti i giorni e dall'altro lato però c'è una profondità di analisi da parte dei programmatori che porta spesso e volentieri come dicevo prima a anticipare delle esigenze che il notaio può avere ma che non sa ne ancora che avrà